Angelo, bello il risultato ma bella anche la prestazione di questa battifagliese oggi? Sì, è stata per la prima volta, abbiamo fatto più di due gol, su un campo secondo me difficile, l'abbiamo resa a noi facile, secondo me con l'atteggiamento sin dall'inizio, siamo stati cattivi su tutti i palloni, questo è un campo brutto e secondo me questa è pure una buona squadra. Si entra in zona playoff con questi tre punti? Io sinceramente la classifica non la vedo il giorno d'andata perché noi siamo ancora in fase di costruzione, stiamo migliorando domenica dopo domenica, l'importante è che stiamo crescendo sia con i risultati che con le prestazioni, poi la classifica io la inizio a vedere fine giorno d'andata, giorno di ritorno.